Successivamente, vediamo se... Camila, buongiorno, vediamo se riusciamo. Pronto. Buongiorno Camila, come stai? Buongiorno, buongiorno. Insomma, sono stata bene. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, mi piace moltissimo non essere lì con voi, ma diciamo, il dottore mi ha minacciato. Allora, io non sono avvenuto a chiedere gli applausi, però chiederei un applauso per Camila. Mi salitiamo e ci lasciamo alle ore e ci vediamo il primo raggio. Sì, se posso comunque il messaggio è che sono molto contenta di essere su quel palco e ne sono ammorata. Per me è un po' come ovviamente tornare alle mie origini, ma con un twist diverso che è una giornata così importante per l'Italia. Quindi sono ammorata di salire su quel palco. Un grazie, un saluto a tutti. Grazie Camila, grazie a te. Pronta guarigione e un saluto da parte di tutti quanti noi. Direttore. Grazie.